Nel libro troviamo 90 schede di giocatori, il primo in ordine alfabetico si tratta di Altonen, un finlandese che arrivò al Bologna e di cui si racconta che pensasse di più alla laurea che non al calcio giocato, tant'è che oggi è laureato in economia e commercio e uno stimato economista in Finlandia, ovviamente ha lasciato il calcio giocato prima di compiere 30 anni. L'ultimo, e molti si sbagliano, si tratta di Zarate che non è il centravanti argentino della Lazio ma suo fratello che giocò nel 92 a Lancona con risultati pessimi e oggi questo Sergio Zarate è il procuratore di Mauro che è il giocatore della Lazio. Una cosa molto carina di cui voglio parlare è questo giocatore che è considerato appunto il bidone per eccellenza, uno straniero, questa è la figurina Panini, che è del 1980. La storia di questo straniero è leggendaria perché ha ispirato il film di Lino Banfi, l'allenatore nel pallone. Voi tutti quasi sicuramente l'avrete visto e c'è la storia, si vede Lino Banfi Canà che a un certo punto viene spedito dal presidente della squadra ad ingaggiare un presunto campione brasiliano, perché comunque il brasiliano andava di moda. Lui che fece? Partì assieme a Andrea Roncato, che era un mediatore che aveva le mani in pasta dappertutto e scovò questo giocatore che era Aristoteles, che però nel film era un buon giocatore. Nella realtà invece ci fu l'allenatore della Pistoiese che partì per il Brasile con l'obiettivo, l'obiettivo era quello di ingaggiare qualche giocatore già conosciuto, tra cui Paligno che era un bomber del Palmeiras. Si parlava poi pure di lato che è stato il capocannoniere, è un polacco, il capocannoniere dei mondiali del 74. Poi alla fine ingaggiarono questo giocatore, lui Silvio Danuello. Tuttora si raccontano delle leggende metropolitane che faccia l'attore porno, che venda pizzette nello stadio di Pistoia, che abbia aperto un bar. In realtà si trova in Brasile, è stato rintracciato da un giornalista della Gazzetta dello Sport, ha investito i guadagni della sua carriera, è comunque stata modesta, nella vendita di ricambi industriali. Ma il bello qual è? Che c'è un personaggio legato a lui, a doppio filo, e nel libro ci sono molti di questi aneddoti che si raccontano e si tramandano. Questo personaggio, Edmondo Fabri, che fu il CT dell'Italia ai mondiali del 66 e torniamo a quando fumo eliminati. Questo Fabri tornò ad allenare nel 1980 proprio la Pistoiese. Quindi praticamente c'è stato questo, lui Silvio è stato anche sfortunato perché praticamente si è ritrovato un allenatore che con gli stranieri non voleva forse avere più a che fare, visto come era andata a finire nel 66. E infatti si racconta che lui gli disse mettiti qua in panchina, lo vedi bene il campo? Ok, perché d'ora in avanti guarderai le partite da qui. Quindi ci sono molti aneddoti in questo genere, tra cui ad esempio quello che parlavamo prima. C'è questo Mikael Tonnen, il finlandese del Bologna che arrivò negli anni 80, e un altro finlandese che arrivò a Perugia nel 99. Entrambi sono finlandesi, uno arrivarono a distanza praticamente di vent'anni l'uno dall'altro. Entrambi pensavano di più alla laurea piuttosto che al pallone. Al Tonnen, come abbiamo citato, in Economia e Commercio si laureò, invece Lekosuo in Ingegneria Elettronica. Infatti Lekosuo giocò poche partite e anche lui se ne tornò in patria. Un'altra storia per cui si raccontano parallelismi tra tanti giocatori. Storie che si ha la sensazione di aver già visto, vissuto o visti in alcuni personaggi e poi rivisti nuovamente in altri.